... ... ... ... ... Dove vai Don? Dove vai Don? Dove vai Don? ... Vai Leva! dai vai tommy su dai che andiamo a casa che tardi e vai capito? vai ancora hai finito hai finito dai 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 e che bel culetto recetto dai apri lì dai su apri hai visto sciva come è? l'ha visto bello! Ancora basta la pianti ce la fai a staccarlo ok ok